Paratici è una cosa scandalosa perché lui ha, non solo il caso paratici parliamo, perché il cellulare taglia sempre le prime parole, il caso paratici è importante perché, importante, scandaloso, perché lui cosa fa? Contatta la ministra De Micheli, ministra delle infrastrutture, vecchia amica d'infanzia, cito le parole del telegiornale, cioè voglio dire ragazzi qui, cioè comunque c'è un conflitto di interessi, c'è qualcosa sotto, cioè allora ragazzi qua è finito tutto, cioè per fare le visite mediche a Suarez hai contattato un ministro, va bene? Poi mi sembra che ci sia la sospensione in questa scuola di italiano, questa università, la famosa università di Perugia, dei professori, sono stati sospesi, ufficialmente è uscita la notizia oggi, quindi voglio dire c'è un'indagine in corso, però l'amministratore delegato di una scuola di calcio come la Juventus dovrebbe quantomeno dimettersi, a mio modo di vedere, perché ci sono dei fatti che hanno una valenza tra virgolette politica che va al di là da una condanna giudiziaria, a mio modo di vedere.